Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per lavori si segnala la chiusura delle corsie di sinistra tra Firenze e Sud e Firenze Scandici. Per questi lavori si sono formati 2 km di coda tra Incisa, Reggello e Firenze in Pruneta sulle corsie di destra. Sempre in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandici e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code per traffico intenso tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. Spostandoci sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra Monteriggioni e Colle di Valdelsa Sud tra i km 10,820 e 13,100. Ed è tutto, buon viaggio!